ciao a tutti ragazzi oggi siamo su granny e grandpa oggi proveremo a scappare in modalità normal bot ragazzi bot lo so vabbè noi siamo fatti però come sempre iscrivete al canale attivate la campanellina se volete altri video e andremo a scappare con l'elicottero l'elicottero della nonna e il nonno no credo che non ci sia più però controlliamo non lo so sentiamo un problema risente vabbè mai busi è girato lo schermo per un attimo ma troppo altro guardate come si ma fu andata non credo che funzioni ancora però sì non si dai suzza 2 vieni non viena la nonna e suzza 2 ciao notacchiere e buonanotte iniziamo con niente male con niente non c'è proprio niente ragazzi sono mangiati gli oggetti buonanotte iniziamo la incontro il caso tutto quello che troviamo andiamo a mettere ora non niente stava bene tale come ci guarda chi è l'aria siamo in normal raga botta di sale che è l'aria spero che non è qui nino non si è a rompere le balle qui no bravo ti conveni adesso io vi sparo mano in alto questa è una rapina nonna viene di ciao nonna ciao ciao nonna che sei bello ma sei troppo brutta per me un minuto e trenta non è niente per ciò facciamo bastare mi ho rubato la chiave al nonno il gasolio è lì il pazzo di pazzo al lavoro mettiamo a queste non ci serve controlli ma qui siete chi vediamo qui se c'è strano il patentino per l'aria ma come fa quindi a guidare cresce un aereo mi scanterei se fosse lui questa cia partiamo lì sempre ci portiamo tutto nel passaggio la c'è un pezzo del pozzoli del mio ammino qua lo droppiamo tutto quello che ci vuoi ma lo mettiamo qua a parte il pazzo che ci serve non più perché il pazzo lo controlliamo ma funziona ancora quel bug dopo vediamo buono mi interessa e i nonni forse già ora tornano in circolazione per la casa cosa c'è non ci serve noi dall'aereo se c'è ancora non aprire qui queste non fate il nuovo aggiornamento della casa scotch perfetto abbiamo qui qua ci serve il coso per il puzzle tutto completato se non si fa niente ti immagino a cercare qua di frango dico delle parole mi vai a cagare nonna giorno 2 mi ha preso ma io mica non aspetto che nasceva lì perché c'è forse il nuovo aggiornamento boh perché non nasce sempre di sopra boh bug che nessuno attirino di nuovo tutti e due nonni uno e due andiamo ammocciamoci qui uno uno zozzo zozza e due zozzi mi ha visto schifezza umana ma non è ci provare sai aiuto vicinissima ho paura ho paura ho paura mi infilo qua dentro e poi ui pum non mi prendi manteniamoci subito se no uuuh alla gonna bella tenucci qui così non ci può coprire sennò la schiena gli si fuma se si basse le prese la schiena brava vattene schifo mano e ciao ottieniere e andiamo a cagare spero che non mi faccia il naso qui speriamo per me è dietro l'angolo per me è qui ciao nonno approfitto abbiamo fregato il nonnino vabbè è vecchio non vedo ci manca l'ultimo pezzo comunque andiamo nel sotto dei piedi dove vedo la nonno dov'era lì il nonnino è lì credo come è scomparso quel vecchio era qui ragazzi nonno arriva dove arrivare nonno ha suonato il campanello qua ti conosco bene nonno nonno quasi fa la ceretta andiamo ultimo pezzo si io vorrei abbattere di nuovo i nonni che tu ha sembra una cosa giusta dacene uno che va a feccare subito il naso no non ci sono nevole più qua ah brutta pezze di schifo ma fai cagare lo sai vero vabbè basta che fa cagare nonnino vicinissimo ragazzi paura ne facciamo una dilemmosa per fottere la nonnina è bagato ciao nonna vai a cagare e buonanotte io salgo qui abbiamo fottuto la nonna shotgun andiamo a sparare la nonnina tieni quello che sono soddisfatto adesso cretina partiamo sulla shot gli ho sparato due colpi in un stardino nino non mi va di giocare a nascondino sono grande tu sei piccolo io prendo dove è il puzzle? ah si quel vecchio balad è nelle fogne sicuro se non è nelle fogne ha fatto il giro qui mi ha girato e infatti ti conosco troppo bene pezzo di nonno anche di cacca andiamo qui intanto sblocchiamo questa volta così andiamo a prendere subito il fuccio vediamo perché ci serve perché ora ci serve per abbiamo colpi dobbiamo prendere quella cosa così guardate questo uh colpi infiniti un uno due due vai prendiamone il gioco e passiamo qua ci serve il fusibile no no non mi fai guardate come passo aspetta appena si chiude cosa? non funziona più ragazzi la nonna ti ho visto pezzo di vecchia poi muore muore all'inferno mi ragà me la sono rischiata un botto perché volevo fare quella scenenza ho fatto una cartina acide però io ci riprovo no funziona raga l'ho provato ci sono uscito deve funzionare che ha fottuto per un attimo dai buggato raga tutto ha buggato niente 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 non si può fare fucile carico c'è nonna niente ragazzi eccoci 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 di nuovo mi chiamavano ragazzi non ho rotto negli scader però io dovevo ascoltarli dove è il nannino? credo che giochi a nascondere mi chiamavano che vuole mi chiamavano come si chiama walk ah ficca naso vatenne vatenne grandonna di merda ragazzi mettiamo un attimo ragazzi eccoci andiamo vediamo la nonna intanto no ci cucciano qui che è l'ario brava il pollo la nonna è stupida la nonna è tutta cretina è scema la carne del caglio facciamo un rumore così la teniamo qui chiudiamo aspettiamo un attimo è andata chiudiamoci pure ecco la barra va bene ci sono la carne ciao a fare con te è stato un piacere tre pezzi di corno sotto il letto già visti? già visti? già visti? non voglio vedere già visti? già visti? no non ci ha visti perché scena? aspettiamo un poco ragazzi stiamo un poco qua aspettiamo che la nonna se ne vada farei un sedere mi ha cagato una ciappola ma io ti cago questo no? no fai l'inferno muori l'urida cretina vai anche a cagare perché tu cagli eh nonnino vai a cagare nonno tu e tua moglie oh la la quella mezza sdricchita non mi stai dietro? non mi stai dietro nonno non mi stai dietro perché è vecchio non mi stai dietro mi stai dietro le scatole ci sembra che è fusibile è fusibile dove è la cosa più facile del gioco? cosa potrebbe essere? boh non lo so ragazzi però è difficile da trovare ma mi è venuta un'idea dove ti può già per trovare il fusibile no il doorlock no qui proviamo no la pacca bloc queste cose inutili delle fogne non sono brutta merda mi ha preso ragazzi schifo un attimo pausa eccoci di nuovo c'è un po' di pubblicità proviamo la propria così abbiamo un elicot questa e per punizione punisco la nonna andiamo l'ultima due volte così attiriamo più che possiamo io sparo un colpo nel sedere non vi immagino di quando mi ha preso quella voglia dai però non posso stare un anno vabbè un anno aspettiamo un anno però basta che ti ammazzo nuova mira perfetto muori pezzi di vecchia è pure tua nannina all'appello si va bene dai non è più in gamba oh che gonna io la guardo ma il nonna arriva tieni forse è fusibile lo so dov'è vabbè ragazzi mi ha fatto tutte inutile tutte qualcosa no ecco quello no però intanto abbiamo abbiamo ci manca la cosa la chiave dell'elicot che ci ha fatto caso scusate è fusibile andiamo a metterlo come si chiama elicotter ah elicotter chi si dopo andiamo a poco la sift chi però abbassiamo di nuovo gli occhi scusi andiamo andiamo oh l'abbiamo sboccato e ricordiamoci per la cosa qui l'abbiamo sbagliato tutto scusibile passiamo mettiamo cosa prima granate l'elicottero questo va bene boh mi esplode la granata aggiustiamo l'elica intanto e dopo andiamo a mettere il gasolo andiamo a mettere il gasolo ma è esplosa con la granata aggiustiamo l'elicottero esplodi mi a prendere il gasolio già abbiamo aggiustato l'elica perfetto andiamo sono ricchi hanno una pensione incredibile no vero è per te lo scherzo una pensione quale cosa abbiamo niente ah la nonna ficcanaso ficcanaso perché non muori pezzi di vecchia fammi entrare per un pelo ragazzi per un pelo per un pelo 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 per un pelo ciao ti frego ti frego me ne vado pezzi di vecchia aspettiamo vediamo se c'è il nannino non c'è che stupida pure lei ciao nonna che salgo ciao nannina dai cagare mi guarda andiamo questo episodio sta durando un bel po' no vabbè però io lo faccio finire è inutile se lo facciamo andiamo mettiamo il gasolio e l'aereo gasolio gasolio una volta ho provato a guidare senza patente mi è caduto l'aereo vai ci manca soltanto la chiave per scappare provare ogni minuto sto fermando di un giusto però mi è ricordato la chiave si vuole la chiave la chiave alla shift key dov'è bu porcazza l'avete visto non esci era anche ora pezzo di vecchio salgo ci riesco e mi prendo va a cagare no giorno 4 no non ci dovevamo prendere più non ci dovevamo prendere più se ci prendono le ultime due volte siamo morti ce la facciamo ragazzi ce la facciamo ho fiducia in me dove resta ho fiducia in me però io lascio in me prima stendo la mamma se no tiro tanto prima la mamma se no tutti e due mi ammazza sono furbo vieni catina pure il nonno nonno sbrigati non ho tempo da perdere nonno non mi sfidare mannino pure tu ciao amore morite tutti e due brutti schifi se scattiamo dall'aereo siamo fortissimi mi ricordo che la dobbiamo scappare ragazzi voglio scappare se perdo alla fine rompo il telefono tiriamola da qua per se chiudere così no dai dove può essere mai la chiave la chiave no sono lì non mi dire le pinze no allora sono lì per forza ragazzi non credo è impossibile per fortuna l'ho tirata forse ce ne andiamo credo che ce ne andiamo bella mia andiamo ragazzi sento il profumo della vittoria ma dai ragazzi siamo sfortunati non potrebbe essere mai quella chiave non lo so ragazzi fatemi pensare un attimo sto pensando per l'osolo non ci fate caso ho lasciato le forbici tiriamo la vecchia questa non c'è pensi dove potrebbe essere la chiave 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 dai ci guardi no ti azzaltare è brutto schifo a buon Natale a buon Natale niente ragazzi non si gioca la chiave andiamo qui elicopter chi elicopter chi no forse fuori siamo forse nonno ti giuro se scappo ho un prio ho un prio ragazzi se scappo se c'è un gioco nino non c'è dobbiamo sperare che quei due vecchi non sono fiscali non so nonno 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 è qui non sicuro nonno ciao possiamo scappare forse forse siamo fuori sento il profumo della vittoria sento il profumo della vittoria ragazzi si come ne hai bloccato bello ragazzi ciao cosa fighissimo ragazzi è stato bellissimo è per questo seguito da Alex Pro out no un bacione ciao 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 ciao